Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar La digitalizzazione dei servizi, un percorso di consapevolezza sistemica, organizzato con il supporto del Centro di competenza per la semplificazione della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono Paola Pirani, di Forma SPA e vi introdurrò brevemente in questo evento online. Do il benvenuto anche ai relatore di oggi, che sono Monica Feletic, coordinatore del Centro di competenza regionale per la semplificazione della Regione Friuli Venezia Giulia, Milena Grion, responsabile area progettazione e sviluppo COMPA, Centro di competenza per la pubblica amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia e Project Manager Progetto NEX PA, Giacomo Re, Project Manager Progetto NEX PA e responsabile Centro di competenza ANCI della Regione Friuli Venezia Giulia, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, è organizzato con il Centro di competenza per la semplificazione della Regione Friuli Venezia Giulia, con il supporto di Forma SPA, nell'ambito del progetto PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, nel progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, affidato a Forma SPA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito di questo progetto si sono svolti diversi seminari e webinar, BER 39 webinar e 35 seminari. Le tematiche trattate sono state la conferenza dei servizi, la modulistica unificata e standardizzata, la SCIA, SUAP e SUE, il commercio, l'impresa, l'edilizia, la digitalizzazione, la notifica sanitaria, gli spettacoli e trattenimenti pubblici, autorizzazioni di imprese funibri, ambienti e semplificazioni per le imprese certificate. Allora, guardiamo solo brevemente qualche numero. Dall'inizio del progetto ad oggi sono stati partecipanti ai nostri seminari, sono stati 4.494 ai nostri webinar, ben 11.115. Ringrazio tutti voi per questa partecipazione sempre attiva. Potete poi vedere nelle slide che lascerò sulla piattaforma Eventi.pa anche la suddivusione dei partecipanti ai nostri eventi per regioni e anche per ente di appartenenza. Tutti gli eventi che si sono svolti nell'ambito del nostro progetto li potete trovare nel nodo di Eventi.pa 17.455. Potete trovare tutti i link e nel link vi rimanda le pagine di Eventi.pa nel quale troverete sia le registrazioni che le slide e il materiale utilizzato dai nostri relatori. Sempre nell'ambito del nostro progetto è nata la comunità Rete Italia Semplice, rete.italiasemplice.gov.it che è una piattaforma al servizio del personale, dell'amministrazione, dell'associazione, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici ed è dedicata in particolare alla messa in rete delle competenze nell'attuazione dei progetti di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formex.pa nell'ambito del progetto Pong Governance, i progetti Delivery Unit e il supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta utilizzare le credenziali di FP Out cliccando sul pulsante Accedi e si viene registrati immediatamente nell'area di lavoro Rete Italia Semplice. Per poter partecipare alle altre due aree di lavoro che sono attive in questi momenti, ovvero Suop, Conferenza dei Servizi o Modulistica Standardizzata e Semplificata, basta richiedere la partecipazione cliccando sul pulsante Partecipa. Questa piattaforma mette a disposizione diversi servizi come Guide e Fac, Chiedi e Help Desk e tutto un Remind ai nostri webinar e seminari. Andiamo velocemente all'incontro di oggi che è rivalto al personale dell'amministrazione dei Suop della Regione Friuli Venezia Giulia, ma anche a tutti i Suop e le amministrazioni del territorio nazionale e tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo la mia accoglienza ci sarà l'intervento di Monica Feletic, poi di Milena Grion e infine di Giacomo Re, per poi lasciare uno spazio alle vostre domande nell'ultima mezz'ora del nostro webinar. Il webinar di oggi illustra l'omonimo percorso formativo avviato su iniziativa del Centro di Competenza per la Semplificazione della Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato grazie a Compa della Regione, che supporta la formazione e il rafforzamento degli enti locali sulle materie di competenza dei comuni e ha l'obiettivo di spiegare come è nato, come si è voluto e quali sono stati i risultati prodotti dal progetto formativo. Questo progetto, bisogna ricordare, ha ricevuto la segnalazione di eccellenza da parte del Comitato Scientifico del diciottesimo premio AIF, Filippo Basile 2019. Il webinar vuole essere anche un punto di confronto con i responsabili delle risorse umane, della formazione e della transizione digitale dell'APA, con tutti i dipendenti pubblici e cittadini interessati al tema delle competenze digitali. Come dicevo prima, nello specifico, questo webinar di oggi tratterà gli argomenti ambasciatori digitali si diventa, con l'intervento della dottoressa Feletig, poi passeremo a sviluppare le competenze digitali dell'APA da utopia a realtà contagiosa della nostra Milena Grion e per finire un percorso di consapevolezza sistemica di Giacomo Re. Come tutti i webinar, anche questo incontro verrà registrato e le slide le troverete allo questo nodo nella quale vi siete iscritti, ovvero il nodo 20.08.93, subito dopo il nostro intervento, così come tutte le vostre domande che porrete in chat, le troverete poi nel file per iscritto, sempre nella pagina di eventi PA. Vi ricordo che per l'attestazione di partecipazione avverrà solo per coloro che sono iscritti al webinar e che partecipano per almeno il 20% del tempo. Dopo l'avvenuta attestazione da parte del nostro staff, potete scaricare il vostro attestato nella pagina I miei eventi. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento e lasciare la parola ai nostri relatori. Buongiorno, spero mi sentiate bene. Buongiorno, sono Monica Felettig. Perfetto, mi dicono che si sente bene. Allora grazie al Formez e alla dottoressa Pirani per questa sempre splendida introduzione. Permettetemi un saluto speciale ad una persona, Rianna Risso, che è stata consulente Formez presso la regione Friuli Venezia Giulia e che ci ha aiutato tantissimo, intensamente nella fase di start-up del centro di competenza e nella fase di progettazione dell'esperienza formativa che è, come avete compreso, oggetto di questo webinar. Io vi racconterò il particolare contesto amministrativo in cui si è maturato questo progetto di formazione che ha ricevuto, come diceva Paola, a ottobre scorso una segnalazione di eccellenza di cui siamo orgogliosi dall'Associazione Italiana Formatori. Il titolo, vedete, ambasciatori digitali si diventa. Con questo titolo voglio evidenziare quanto una formazione affidata ai formatori giusti possa far emergere i veri innovatori all'interno della pubblica amministrazione, le persone che sono pronte a rimettere in discussione i propri processi di lavoro e anche, se vogliamo, l'assetto organizzativo. Presupposti entrambi che sono assolutamente indispensabili se vogliamo parlare di attuazione della transizione digitale. Qual è stato il nostro punto di partenza? Perché c'è sempre un punto di partenza. Tutto a inizio nei primi mesi del 2018, in Friuli-Venezia-Giulia siamo in un periodo di transizione importante perché siamo a cavallo tra due legislature. Siamo, tra l'altro, nella piena fase attuativa della riforma Madia che tutti voi, penso, ben conosciate. Il decreto legislativo 222, lo ricordiamo tutti, ha valorizzato moltissimo l'esperienza del suo app telematico che possiamo dire essere il primo esempio di switch off dal cartaceo al digitale e anche di concentrazione dei regimi amministrativi, ma c'è stato anche il decreto legislativo 126 2016 che ha generalizzato il concetto di sportello unico estendendolo a tutte le istanze amministrative anche al di là di quelle di stretta competenza del SUAP. Nel 2014 la nostra giunta aveva sottoscritto l'agenda semplificazione e tra gennaio e febbraio 2018, quindi i primi mesi dell'anno scorso, nonostante fossimo a fine legislatura, la giunta uscente valida tre strumenti della semplificazione. Primo, la costituzione di un centro di competenza per la regionale per la semplificazione con lo scopo di facilitare e accompagnare la digitalizzazione dei servizi, a partire da quelli dei SUAP ma non solo. Secondo, l'obiettivo sportello unico dei servizi per generalizzare il concetto di sportello unico in ottica di riforma madia, dunque traguardando il SUAP telematico e anche il SUAP per chi nel frattempo lo avesse realizzato. Tre, il piano di rafforzamento amministrativo dell'ente per il biennio 2018-2019 che va a valorizzare e a racchiudere le tre esperienze precedenti. Il SUAP, che per noi è il portale regionale SUAP in rete, il SUS, l'obiettivo di sportello unico dei servizi, il centro di competenza neoistituito. Il tutto da attuarsi all'interno della direzione generale perché, guarda caso, il direttore generale è nello stesso tempo responsabile per la transizione al digitale, è responsabile dell'attuazione del PRA e anche presidente del gruppo tecnico SUAP. Due parole su questo obiettivo SUS. Che cos'è lo sportello unico dei servizi nella visione del Friuli Venezia Giulia? È un progetto di trasformazione digitale tanto ambizioso quanto oserei dire rivoluzionario per la sua portata. Una piattaforma capace di ricevere e gestire qualsiasi istanza amministrativa telematica o scia o comunicazione che dir si voglia, come peraltro lascia intendere il decreto legislativo 126-2016. Un'unica interfaccia utente che, uso una parola forte, fagocita, se vogliamo anche le resistenti piattaforme del SUAP o del suo e per chi le avesse realizzate, sicuramente compliant a quello che sarà poi a fine 2018 il progetto europeo Single Digital Gateway, di cui credo anche voi sappiate bene di che si tratta. Un progetto diverso quindi il nostro, di sportello unico dei servizi, un po' diverso da quelli già anche realizzati da altri comuni o da altre regioni, diverso nella misura in cui i loro sistemi di accesso unico o sportello unico tendono normalmente a riguardare o solo le istanze veicolate ai comuni o solo le istanze veicolate alla regione. Ecco, il nostro è un obiettivo, quindi un progetto un po' più rischioso probabilmente perché crea aspettative trasversali e coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni regionali, regione, comuni, le aziende sanitarie e anche naturalmente l'ARPA, insomma in generale le pubbliche amministrazioni della regione. Il centro di competenza, avendo questo ruolo di facilitatore della trasformazione digitale regionale, sa che la transizione è ostacolata ad alcune minacce e ne avevamo in particolare due, più importanti su cui riflettere. La prima minaccia è che un obiettivo di trasformazione digitale così possiamo dire potente, qual è il SUS, ripropone un problema che è di tipo culturale che avevamo già affrontato e vissuto nella fase di avvio del SUAP telematico. Qual è il problema? La transizione al digitale può avvenire solo se l'intero ciclo di vita di un servizio o di un processo avviene in modalità esclusivamente elettronica, è quello che è successo col SUA, dunque il personale della regione e delle altre pubbliche amministrazioni regionali si misurerà con un cambio radicale delle abitudini di lavoro. Serviranno competenze organizzative, serviranno capacità di revisione dei processi interni, ma considerando l'età media dei dipendenti pubblici che sapete si attesta intorno ai 55 anni e il limitato ricambio generazionale perché è da dieci anni che abbiamo un blocco del turnover generalizzato nella FIA, insomma ci aspettavamo diffidenze culturali e anche se vogliamo timore del cambiamento. Il tutto confermato purtroppo dall'indice DESI 2019, che è questo indice che misura il livello di digitalizzazione dei paesi dell'Unione Europea e che ha confermato i nostri timori perché tutto sommato, insomma sotto il profilo delle competenze digitali di base, cittadini, imprese e oimè anche pubbliche amministrazioni hanno un basso livello competenziale. Una seconda minaccia, anche questa molto importante per noi, l'ho riassunta nell'espressione hard skill contro soft skill. I top manager pubblici, è noto, sono un pochino obsoleti. Lo siamo un po' tutti noi over 50, c'è poco da dire. Possediamo una cultura super specialistica, le cosiddette hard skill, solo il 12% proviene da lauree STEM e una schiacciante maggioranza di laureati in giustridenza, in economia, in scienze politiche. Io stessa appartengo a quest'ultima fascia e questa situazione sarà perfetta fino a 30 anni fa e adesso chiaramente è anacronistica e inadeguata a gestire progetti nativi digitali. Dunque a chi entra nel mondo del lavoro 2020 servono nuove competenze, competenze ibride che mescolano conoscenze umanistiche e conoscenze scientifiche, le soft skill e senza di esse noi pubblica amministrazione non siamo più in grado di produrre valore per i cittadini, quindi di erogare servizi di qualità, men che meno i servizi digitali. Guardate che Future of Jobs, report del World Economic Forum, definisce, e ve le ho indicate in slide, le 10 soft skill fondamentali nel 2020, nell'ordine in cui le vedete, come competenze appunto necessarie per produrre questi servizi di qualità e lavorare bene efficacemente nel 2020. Non sono competenze nuove, sono competenze addirittura identificate nel 1994 come competenze per la persona che ora, poi nel tempo, sono state ovviamente estese anche alla professione. e con questi presupposti uno dice ma vi siete scoraggiati? Ma anche no, abbiamo preferito guardare alle opportunità e ne avevamo una davvero potentissima, in questo siamo stati fortunati. La continuità del mandato. Il nostro assessore regionale alla semplificazione e all'innovazione presiede la commissione speciale per l'agenda digitale presso la conferenza delle regioni e province autonome. Ed è un convinto assertore del digitale come strumento di sviluppo della società, è un vivace sostenitore dell'obiettivo sportello unico dei servizi ed è anche un sostenitore del ruolo del centro di competenza FWG quale facilitatore della trasformazione al digitale. Quest'uomo, lo vedete, si chiama Sebastiano Callari, sa bene, ha ben chiaro che i processi, il successo dei processi di trasformazione digitale dipende, diciamo così, dalla convinta partecipazione di tutto il personale pubblico a partire dalla classe dirigente e dai decisori. Il commitment, quindi voi capite, è forte e ci aiuta ad ingaggiare i dirigenti nel processo di acculturamento digitale. E allora per superare queste minacce, questi ostacoli abbiamo naturalmente individuato, identificato una strategia in qualche modo difensiva che si è rivelata e speriamolo sia ancora più nei mesi a venire decisiva. Abbiamo inserito nella cassetta degli attrezzi tre cose. Primo sicuramente l'approccio per processi che è un approccio vincente. Non dobbiamo più considerare i procedimenti amministrativi che è quello che in particolare noi giuridici, noi appunto super specialisti delle materie giuridiche siamo abituati in qualche modo a valorizzare anche troppo. Ma noi dobbiamo cominciare a pensare ai processi che caratterizzano i procedimenti e che sono avessi sottesi. Analizzare i gap dei processi, rendere semplice ciò che è stato inutilmente complicato da una legislazione faraginosa ma a volte anche da regole che ci siamo dati al nostro interno. Ciò che è inefficace e inefficiente va quindi assolutamente rimosso con grazie ad un approccio per processi che deve però andare di pari passo con un fortissimo engagement. Che significa engagement? Significa organizzare percorsi, uno o più percorsi di formazione che sostengano la conoscenza dei metodi di mappatura dei processi e la loro reingegnerizzazione in ottica digitale, il che permette di coltivare quelli che ci piace chiamare gli ambasciatori digitali. E ancora da non dimenticare l'abbattimento dei silos, anche questo è un tema comune e assolutamente attuale da sgominare. L'abbattimento dei silos significa che per essere realmente a servizio di cittadini e imprese non possiamo continuare a muoverci a compartimenti stanni. Per organi grandi e funzioni dobbiamo abbattere le barriere lavorando in team anche in ottica del progetto europeo che richiamavamo prima Single Digital Gateway. Ecco che dunque siamo passati da una fase, ah per una fase sperimentale. Eccoci qua. Opero una scelta, in questo caso io proprio come coordinatore del centro di competenza che effettivamente si rivelerà vincente per avviare la diffusione di una cultura digitale entro l'ente regione. Decido di indagare a che punto sono le competenze digitali, siamo circa 3500 dipendenti, intervistando direttori e funzionari delle varie direzioni. Faccio circa 40 interviste usufruendo, utilizzando una checklist fissa e scopro tra febbraio e ottobre 2018 che nella direzione regionale dell'ambiente ci sono proprio i candidati ideali per avviare il primo corso sperimentale. La costruzione del programma quindi di formazione è costruita dal basso raccogliendo il bisogno un po' a macchia di leopardo perché da qualche parte si doveva cominciare ma ha funzionato benissimo. La giunta ha approvato nel gennaio 19 gennaio 2019 l'obiettivo formativo sperimentale che si è in quanto sperimentale concluso a giugno portando a dei risultati che non avremmo mai immaginato. Abbiamo formato il doppio delle persone che avevamo immaginato, non 60 ma 121, ma soprattutto abbiamo, non sono persone della direzione ambiente ma anche di altre direzioni, della società in house, dell'ARPA e delle aziende sanitarie, ma soprattutto abbiamo innescato un processo di nuove richieste di formazione, di accompagnamento nella ringenerizzazione dei processi e nell'analisi organizzativa e questo è il successo dell'iniziativa che ci ha portato poi all'attuale fase di consolidamento. I risultati. Ora servono due azioni, due cose fondamentali. Primo dare la stessa opportunità formativa a tutti i dipendenti delle PA regionali, con corsi di formazione che diventano permanenti, per questo parlo di consolidamento. Consapevoli, lo diciamo senza paura, senza tema, che una parte, una percentuale di partecipanti ai corsi sarà riluttante, potrà manifestare negatività, ci sono gli scettici che si ripiegano su se stessi. Non tutti saranno pienamente coinvolti, sono gli spettatori, gli attendisti, quelli che aspettano che gli altri facciano e non si mettono in gioco, ma noi puntiamo, e questo è il secondo aspetto, sugli entusiasti, coloro che chiedono approfondimenti, che vogliono fare, vogliono mettersi in gioco, perché noi speriamo che loro divengano i nostri ambasciatori, il virus del cambiamento organizzativo che diffondono e contagiano tutto e tutto l'insieme del personale, della pubblica amministrazione di appartenenza. Giungo alla mia, alla conclusione, come vedete concludo che il valore è generato dai processi e non dalle tecnologie. Quindi il successo di un'iniziativa formativa, credo di averlo evidenziato, della nostra iniziativa in questo caso, della nostra esperienza, è stato legato sicuramente al commitment, commitment politico forte, sicuramente alla corretta intercettazione del bisogno, ma adesso vi dico un'altra cosa importantissima, è molto legato anche alla qualità dei formatori. Noi questa qualità l'abbiamo provata in Compa FWG, il centro di competenza di ANCI, che supporta la formazione e il rafforzamento degli enti locali e li ringrazio. Gli esperti di Compa a seguire vi spiegheranno le dinamiche della progettazione, il percorso che è stato attuato e la sua entusiasmante rivoluzione. Grazie, grazie mille. Allora, mentre carico la presentazione della dottoressa Grion, eccoci qui, andiamo qualche attimo. Allora, ho solo una comunicazione di servizio, c'è sicuramente qualche rallentamento nella rete di qualche partecipante e in questo caso chiedo la gentilezza tra una slide e l'altra, mentre si manda avanti le slide, di attendere solo qualche secondo, in modo tale che si riesce meglio a far seguire la trattazione. Grazie ancora. Perfetto, grazie Paola. Sto aspettando le slide e nel frattempo mi presento, sono Grion Milena e sono responsabile di questo progetto all'interno di Compa FVG che è stato già presentato dalla collega Felettig. Come diceva Monica Felettig, io sono un formatore, formatore a 360 gradi, significa che mi occupo in primo luogo della progettazione oltre che dell'orogazione della formazione. Il mio compito oggi è proprio quello di presentarvi le varie fasi che abbiamo seguito per realizzare questo progetto e partiremo quindi proprio da dove siamo partiti. Il dove siamo partiti effettivamente significa andare a capire quali sono le competenze che noi dovevamo formare sulla base della richiesta della regione Friuli Venezia Giulia e soprattutto come poter rispondere a un fabbisogno che era quello di trasformare dei servizi in digitale. Un'ulteriore richiesta molto sfidante della regione è stata quella di poter diffondere una cultura, una cultura digitale all'interno di un'organizzazione pubblica. Davvero una bella sfida che però ci è piaciuta e vediamo ora di capire. Secondo voi, provate un attimo a riflettere, questa sfida è utopia oppure è realtà? All'interno di una pubblica amministrazione possiamo pensare veramente di creare e sviluppare una cultura digitale e poterla diffondere? Beh vi devo dire che a noi le sfide piacciono e quindi l'abbiamo colta anche perché effettivamente come dice un bel detto che noi prendiamo sempre riferimento non bisogna mai smettere di sognare perché solo in questo modo riusciamo a volare e credo che questa esperienza lo testimoni. Passiamo a questo punto alla prima fase ovvero alla richiesta. Quando siamo stati chiamati dalla dottoressa Pelettig la richiesta è stata dobbiamo fare un corso sulla digitalizzazione per un gruppo di colleghi dimostratisi, quelli più disponibili clienti a sperimentare. Quindi la partenza è facciamo un corso. Bene, sapete come formatore quando qualcuno mi chiede un corso stride, sono molto scettica perché? Perché il formatore ha sempre in mente quello che è il ciclo della formazione. Nel ciclo della formazione la partenza è fare un'analisi del fabbisogno formativo per poi passare alla progettazione e poi all'erogazione. Quindi quello che per noi era fondamentale non era fare un corso ma capire qual era effettivamente il bisogno della regione e così andando ad indagare abbiamo capito che effettivamente dovevamo scavare un attimo per capire che cosa significava questo corso e quindi per fare ciò è fondamentale andare a identificare a qual è il problema che vogliamo affrontare. In secondo luogo qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e soprattutto se c'è davvero la volontà di portare avanti un'iniziativa che può essere neanche difficoltosa. E così sono queste le tre domande che abbiamo rivolto ai referenti in particolare alla dottoressa Feletti e ai suoi collaboratori nel momento in cui dovevamo approcciare questa attività. E abbiamo scoperto che cosa? Che effettivamente la richiesta non era un corso ma la possibilità era di risolvere una problematica ovvero di ridurre un secondo di attesa, si è bloccata la connessione, chiedo solo un attimo di pazienza, ecco probabilmente anche il maltempo non aiuta, vi chiedo solo di avere un po' di pazienza, ora si riavvierà nuovamente la webcam della dottoressa Grionna. Ecco, allora dottoressa Grionna se puoi riattivare la sua webcam? Ci siamo. Ok, ci siamo. Quindi riprendiamo appunto da quello che è l'obiettivo che la regione si poneva di raggiungere, ovvero avviare lo sportello unico, ma soprattutto un obiettivo a lungo termine che era quello di attivare un processo di cambiamento attraverso questa azione. A questo punto come formatori abbiamo capito che si trattava di obiettivi organizzativi che abbiamo riassunto in sviluppare una cultura che fosse aperta al digitale in modo da ridurre queste barriere, sviluppare delle competenze digitali, quindi di tipo tecnico che quindi avrebbero permesso di avviare i servizi digitali e soprattutto cercare di creare una contaminazione di questa volontà di cambiamento che permettesse appunto di attivare quel processo di cambiamento a lungo termine. Dal punto di vista formativo a questo punto che cosa significava? Significava trasformare questi obiettivi organizzativi in obiettivi formativi, quindi sviluppare un percorso che permettesse di raggiungere tutti e questi tre obiettivi. Come? Per capirlo dobbiamo dare un attimo un concetto che è quello di competenza. La competenza nel linguaggio formativo è quell'insieme di attitudini, abilità, motivazioni, atteggiamenti, tutto quell'insieme di elementi che poi portano a creare i nostri comportamenti e quindi la formazione si occupa proprio di andare a attivare a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere qualcuno o più di qualcuno di questi elementi. Per noi che cosa significava in questo progetto? Significava che se sul piano organizzativo l'obiettivo era quello di sviluppare una cultura digitale, quello che era fondamentale era di attivare soprattutto gli atteggiamenti e una conoscenza condivisa perché questo proprio è quell'elemento che modifica il nostro comportamento in termini di cultura, di valori. Per sviluppare delle competenze tecniche e quindi trasformare dei servizi in servizi digitali è fondamentale e agire sulle abilità, quindi il saper fare. L'obiettivo più impattante e anche più sfidante era poi di creare quella contaminazione che permettesse di dare continuità a questo cambiamento e qui ci siamo detti dobbiamo per forza cercare di agire sulla motivazione e soprattutto creare entusiasmo e quindi a questo punto che cosa dovevamo, come potevamo fare tutto questo? Anche perché abbiamo detto all'inizio è stata una vera sfida perché sviluppare un servizio digitale, creare una cultura digitale. Che cosa significa e soprattutto qual è il significato che all'interno della pubblica amministrazione viene dato a un servizio digitale? Voi che cosa pensate? Dall'esperienza io ho ascoltato delle risposte simili a queste, scannerizzare documenti, cartacei, oppure pubblichiamo sul sito documenti disponibili online, oppure fare un documento che preveda la firma digitale. Questo è un servizio digitale è la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ripensare il servizio in ottica digitale significa invece mettersi a testa in giù. Bisogna veramente imparare a pensare, ripensare il servizio in modo diverso e quindi se tradizionalmente, se fino ad oggi il servizio è stato creato dagli esperti e poi erogato, offerto ai beneficiari, ai cittadini, oggi dobbiamo ripensarlo e partire dai cittadini, dai beneficiari, per poi ricostruirlo sulla base delle loro esigenze. Finora il servizio ha seguito una logica verticale, ne ha accennato, ne ha fatto accenno Monica, la struttura della pubblica amministrazione è una struttura, finora è stata tipicamente verticale, quindi ogni funzione eroga il proprio servizio all'interno di se stessa. Oggi la complessità, ma è soprattutto quella che è approcciata dal digitale, è invece trasversale e quindi è necessario introdurre quella che viene definita la logica di processo e quindi dal verticale dobbiamo passare all'orizzontale. Che cosa significa questo? Significa che anche le persone che sono coinvolte nella stessa costruzione del servizio sono molte, sono tutti gli attori che intervengono per realizzare quel determinato servizio a beneficio del cittadino, per cui non è più l'esperto che sviluppa il servizio e poi lo propone agli altri, ma il servizio viene costruito insieme a tutti gli attori. E così ci siamo diventati consapevoli che quello che era necessario per realizzare quegli obiettivi organizzativi che la si poneva era necessario riuscire a sviluppare all'interno dell'amministrazione un nuovo linguaggio, ovvero un nuovo codice linguistico. E come tutti i linguaggi era necessario capire come poter far apprendere questo nuovo linguaggio, ma soprattutto come far sì che questo nuovo linguaggio diventasse lingua madre, perché appunto il digitale richiede che noi apprendiamo questa nuova lingua come una lingua madre per cui riusciamo non solo a tradurre, ma a pensare secondo la nuova logica, la nuova lingua appunto che è quella del digitale. E così abbiamo detto come possiamo fare? Dobbiamo ridiventare bambini, ovvero dobbiamo fare in modo e quindi creare quelle condizioni all'interno del percorso formativo, dell'azione formativa, che è quella che noi viviamo durante l'infanzia, ovvero fare in modo che la nostra mente si liberi da tutti gli schemi, da tutti gli archetipi che abbiamo all'interno della mente e in modo tale che i nostri occhi riescano a vedere lo stesso servizio, le stesse attività in un modo nuovo, ovvero come se l'avessero visto per la prima volta. E tutto questo naturalmente affinché possa realizzarsi deve essere piacevole, non deve essere uno sforzo terribile e quindi la ricerca è stata quella di creare delle attività formative che permettessero in qualche modo di giocare, ma di questo vi parlerà il mio collega Giacomo Re nella prossima presentazione dove appunto andremo ad analizzare più nel dettaglio quelli che sono stati i contenuti delle azioni formative. Quindi, sempre ritornando al nostro ciclo della formazione, vi ricordate, noi siamo partiti dall'analisi del fabbisogno, a questo punto dobbiamo passare alla fase 2, alla fase della progettazione. Capito il fabbisogno? Capito che questi obiettivi organizzativi sono diventati degli obiettivi formativi, ovvero sono stati declinati in termini di competenze professionali da sviluppare. A questo punto dovevamo capire come poter realizzare tutto questo e soprattutto come poter attivare quella motivazione, vi ricordate all'inizio, uno degli elementi da sviluppare era proprio la motivazione affinché ci fosse la contaminazione, perché dal punto di vista formativo le abilità fra virgolette tecniche forse sono le più semplici da realizzare, ma la motivazione e il cambiamento di un atteggiamento e quindi che è il presupposto per avere dei cambiamenti a lungo termine, beh, questi sono la vera sfida per il formatore e quindi come fare in modo che un risultato organizzativo si realizzi attraverso dei risultati formativi? Beh, dobbiamo dire che questo è stato il risultato inaspettato e forse non progettato veramente e che si è realizzato attraverso, ovvero dimostrato attraverso una modifica dell'atteggiamento dei partecipanti. Inizialmente infatti il corso, l'azione formativa è stata offerta dal centro di competenza della regione verso alcuni colleghi che si sono dimostrati i più aperti a questa sfida. Successivamente e oggi c'è una domanda da parte dei colleghi a partecipare a queste azioni. Ecco che allora ci siamo resi conto che abbiamo ottenuto proprio attraverso la metodologia utilizzata quel risultato che era il più importante, il più sfidante, forse il più difficile, ovvero di cambiare l'atteggiamento. Da offerta quindi a partecipare, noi oggi abbiamo una domanda di poter partecipare. E qui chiudo il mio intervento riprendendo sempre il ciclo della formazione, dove la quarta fase, che a volte si dimentica ma forse invece è la più importante, è quella della valutazione delle azioni formative. E la valutazione delle azioni formative probabilmente, lo sapete, viene fatta a diverse dimensioni. Può essere una valutazione della soddisfazione oppure dell'apprendimento, ma la valutazione più difficile da realizzare è quella di impatto, ovvero quella che va a misurare l'azione che la formazione, che l'azione formativa ha sull'organizzazione, sui processi organizzativi. Bene, questa valutazione di impatto, che generalmente è una valutazione a lungo termine, noi l'abbiamo ottenuta immediatamente dopo la prima fase sperimentale ed è stato un risultato davvero inatteso, perché appunto è stato creato dalla metodologia utilizzata ed è quello che ha dato vita a quel proliferare di domanda, di formazione, di cui appunto abbiamo parlato e di cui ha accennato anche la dottoressa Peneltic. A questo punto io vi ringrazio e vi lascio la parola al collega Giacomo. Grazie, grazie mille. Allora ancora un attimo di pazienza che arrivano le slide. Grazie. Ecco qui il tempo del cambio. Prego. Bene, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Giacomo Re, come la collega Milena Grion che mi ha preceduto, anch'io faccio parte di Compafiuli Venezia Giulia. Ho la sfida di presentarvi nei prossimi 20 minuti quello che è stato il percorso formativo e di darvi insomma qualche spunto di riflessione diciamo a partire da quella che è stata la nostra esperienza. Ok, allora vorrei iniziare innanzitutto partendo da quello che è le scelte che noi abbiamo fatto in fase iniziale diciamo di progettazione del percorso. Il nostro percorso abbiamo deciso di strutturarlo secondo quelli che sono tre direttrici fondamentali. La prima direttrice è quella che vedete rappresentata sull'asse verticale, quella delle culture e delle competenze. Su questa direttrice naturalmente il focus è proprio sulla persona. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di fornire delle competenze digitali e diciamo di dare una diffusione di quella che è una cultura digitale attraverso diciamo la nostra azione formativa verso queste persone che hanno partecipato ai nostri corsi. La seconda direttrice che invece abbiamo sviluppato è quella dei processi dell'organizzazione. Quindi usciamo dal focus sulla singola persona ma iniziamo anche a lavorare e a cercare di capire come queste persone si relazionano per arrivare poi all'erogazione di quelli che sono i servizi digitali. Il terzo, la terza direttrice invece di questo percorso, quella degli strumenti, ha a che fare diciamo sicuramente con quelli che sono gli strumenti di erogazione dei servizi ma anche con tutta una serie di strumenti che noi durante il corso abbiamo presentato che sono degli strumenti che possono tornare utili e possono dare un supporto a chi diciamo deve portare avanti un progetto di digitalizzazione dei servizi. Nell'immagine che vedete ecco che vi mostro quello che è un disegno che rappresenta il nostro percorso digitale. Questo disegno è stato distribuito a tutti i partecipanti come diciamo va de mecum del percorso che hanno seguito. Potete ben vedere che è un percorso che è composto da 19 fasi. Ciascuna fase è un approfondimento su una tematica ben specifica. Naturalmente ciascuna tematica di per sé potrebbe essere molto ampia. Noi abbiamo cercato di dare una visione comunque di un panorama di varie tipologie di tema e di competenza. Siccome il primo aspetto curioso su cui vale la pena soffermarsi è il fatto che non è un percorso di informatica. Non è un corso di informatica. Se infatti vedete leggendo un po' i nomi, tutte le prime 12 fasi di fatto non parlano in alcun modo di strumenti tecnologici o strumenti informatici. Un altro punto su cui mi piacerebbe mettere l'accento è che il valore del nostro percorso, a nostro parere, non sta nelle singole fasi o nei singoli contenuti, ma nel modo in cui noi abbiamo cercato di metterle insieme. Un po' come funziona con il gioco dei Lego. Nei Lego non c'è un gran valore o un gran interesse sul valore del mattoncino in sé. La cosa più interessante è come questi mattoncini possono essere messi insieme per poi dare una costruzione. Un altro punto che vorrei farvi notare è che il percorso non è un percorso lineare, tanto meno sequenziale, perché è un percorso che rappresenta la complessità. Un progetto di digitalizzazione dei servizi è sicuramente un percorso molto complesso. Per quale motivo? Perché in diverse fasi è opportuno ritornare indietro sulle proprie scelte per andare a vedere quello che è stato deciso in precedenza. In altri casi è opportuno tenere presente come le scelte per i studenti abbiano degli impatti sulle fasi successive. È un percorso complesso anche per quello che riguarda le competenze che sono coinvolte. Come potete vedere dai nomi delle caselle, sono richieste tantissimi tipi di competenze, anche molto diversi fra di loro. Un ultimo punto di complessità che vorrei sottolineare è quello della scelta dell'aula. Questa è stata anche una nostra scelta, nel senso che abbiamo accettato e abbiamo anche favorito la partecipazione in aula di persone che venissero in direzioni diverse, anche dall'in-house regionale che si occupa dello sviluppo dei servizi informatici. E questo naturalmente per creare attorno al tavolo in cui si sono svolte le lezioni la presenza di persone con varie tipologie di competenze e anche varie esperienze. Il nostro percorso è un percorso di 30 ore e abbiamo deciso di strutturarlo affidando metà del tempo alla parte più prettamente teorica e l'altro 50% sulla parte pratica che abbiamo svolto tramite dei workshop. In sintesi, noi abbiamo percorso le 19 caselle che abbiamo visto prima, una volta più dal punto di vista dei contenuti e della discussione e una seconda volta a livello più pratico all'interno dei workshop e quindi abbiamo declinato su un caso pratico che di fatto era un servizio selezionato insieme ai partecipanti, un servizio che viene erogato dalla regione e quindi abbiamo analizzato le 19 fasi declinandole su questo servizio pratico. Conclusa questa fase sulla progettazione vorrei entrare un po' più nel merito di quelli che sono i contenuti del nostro percorso. Abbiamo deciso come primo incontro della formazione di fare un'introduzione che preparasse i partecipanti. Per quale motivo? Se dal punto di vista agricolo non si può iniziare la semina prima di aver arato il campo, allo stesso modo noi abbiamo voluto fare prima una preparazione dei nostri partecipanti in modo tale da avere poi una maggiore efficacia nella condivisione dei contenuti. Questa preparazione l'abbiamo iniziata con un'attività che io chiamerei sfatare i miti, ossia abbiamo cercato di azzerare o comunque annullare una serie di preconcetti o di pregiudizi che in qualche modo avrebbero potuto rendere meno efficace la nostra azione formativa. Il primo mito da sfatare è proprio relativo alla formazione che in molti casi viene vissuta dal partecipante come un qualcosa di molto noioso e spesso anche come una perdita di tempo. Noi abbiamo cercato di ribaltare questa situazione cercando di rompere quello che è il cliché della formazione, ossia il docente che sta alla cattedra e i partecipanti che in maniera molto minuziosa prendono gli appunti. Noi abbiamo voluto creare delle tavole rotonde dando un'atmosfera molto informale che favorisse oltre all'esposizione dei concetti anche una fase di discussione e di condivisione di esperienze. Un altro aspetto fondamentale per sfatare questo mito è stato il fatto di lavorare anche in gruppo. In questo modo si è dato durante le lezioni una maggiore carica e una maggiore dinamicità che è stata ulteriormente rinforzata poi dal lavoro pratico, fatto anche di tagliare e incollare che è stato un lavoro che abbiamo svolto durante i workshop. Il secondo mito da sfatare invece è stato quello secondo cui digitalizzare significa affidare un problema agli informatici che poi ci restituiranno insomma uno strumento che risolverà i nostri problemi. Come abbiamo visto insomma prima nell'immagine che vi ho fatto vedere del percorso, il percorso non ha a che fare sì con alcuni aspetti informatici ma ha a che fare con moltissime altre questioni che sono fondamentali per dare poi una realizzazione efficace di servizi digitali. e queste questioni hanno molto a che fare con le persone, con le relazioni, con la gestione del cambiamento che è un aspetto molto importante nell'affrontare un processo di digitalizzazione. È un percorso che ha moltissimo a che fare con l'organizzazione e con i processi, come poi vedremo quando vi parlerò appunto dei processi. Terzo mito che abbiamo voluto sfatare è quello per cui digitalizzare è un'attività che consiste nel convertire sul nostro pc quello che noi facevamo con la carta o comunque con un processo analogico. A nostro parere questo è estremamente sbagliato, anzi talvolta è ancora più inefficiente rispetto all'utilizzo di un sistema cartaceo, passatemi il termine. Abbiamo chiamato questa modalità non solo dematerializzazione, che sarebbe il suo nome corretto, ma anche come ingessare una frattura scomposta, cioè rendere qualcosa che è già inefficiente ancora più rigido, perché di fatto andando a digitalizzare in questo modo togliamo anche la flessibilità che in un qualche modo era possibile avere tramite i moduli cartacei. Terminata questa fase di sfatare i miti abbiamo iniziato anche a ragionare su quelli che invece sono le possibilità che ci vengono presentate e poste dal digitale. Il digitale infatti non solo permette di migliorare i servizi o la loro modalità di erogazione, ma addirittura ribalta i modelli, abilita dei nuovi paradigmi. Abbiamo voluto portare l'esempio di alcuni player nel mercato, che sono ormai famosissimi e richissimi aggiungerei, come Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb. Quindi questi sono dei player che sono riusciti a interpretare la digitalizzazione non come un miglioramento delle modalità di erogazione dei loro servizi, ma come una modalità con cui creare dei nuovi modelli. Pensiamo ad Uber. Uber è il maggiore player di servizi di taxi, eppure non possiede nessun veicolo. Allo stesso modo Facebook è il principale sistema di intrattenimento, passatemi il termine, eppure di fatto Facebook in sé non produce nessun contenuto. Stessa cosa per Alibaba e Airbnb nei loro settori. Questo per arrivare a dire, a che punto siamo arrivati? Il digitale quanto ormai è presente nelle nostre vite? Io penso che moltissime persone ormai, come faccio anch'io, consulta i giornali tramite il proprio smartphone, gestisce il proprio conto in banca o i pagamenti. Se qualcuno abita magari in una città grande, sa anche che ci sono delle applicazioni che permettono di ordinare il cibo nei ristoranti e farselo recapitare a casa, oppure di fare la spesa semplice tramite il cellulare e farsela recapitare a casa. Anche nel mondo dei trasporti io personalmente utilizzo l'applicazione di Trenitalia per gestire tutti i miei viaggi, i miei abbonamenti e i biglietti. La domanda che a questo punto sorge spontanea è la pubblica amministrazione può restare fuori da tutto questo? Questa è stata un po' una provocazione che abbiamo voluto dare in questa fase introduttiva. Per chiudere, prima di passare ai contenuti del corso, l'ultimo tema di preparazione è quello sulla gestione del cambiamento. Affrontare un percorso di digitalizzazione dei servizi sicuramente è un percorso che richiede un forte cambiamento. Il cambiamento, diciamo, in linea teorica tutte le persone lo ritengono qualcosa di auspicabile e qualcosa di positivo. Il vero problema è che, in verità, quando poi ci tocca in prima persona diventa molto più difficile. Tutti presentano una certa resistenza al cambiamento, perché cambiare è faticoso e richiede del tempo. Mi piace moltissimo questa seconda immagine che vedete nella slide, questa vignetta, che rappresenta una tipica obiezione che ci viene fatta negli interventi che facciamo nelle amministrazioni, quando parliamo di migliorare il servizio. Purtroppo il dipendente regionale o comunale, insomma che sia, si trova spesso nella situazione di queste due persone che stanno spingendo, stanno tirando questo carretto e che quindi hanno un elevato carico di attività, tantissimi adempimenti da portare avanti, poco tempo e si trovano, insomma, in queste difficoltà e rifiutano le possibilità di miglioramento proprio per il fatto perché sono troppo impegnati. La mia domanda, anche qui in questo caso, è in un contesto dove le risorse sono sempre di meno, gli adempimenti e le richieste sono sempre più pressanti, quanto a lungo sarà possibile andare avanti, diciamo, con la ruota quadrata? Bene, con questo ho concluso, diciamo, un riassunto molto breve di quella che è stata la fase introduttiva. Adesso vorrei entrare proprio nel vivo dei contenuti del percorso. Lo farò, diciamo, approfondendo solo alcuni degli argomenti, per ovvi motivi di tempo non è possibile entrare, diciamo, nel merito di tutte le 19 le fasi. Cercherò di darvi qualche spunto di riflessione su alcune di queste tematiche. Allora, partiamo dall'obiettivo. Penso che tutti siano d'accordo sul fatto che l'obiettivo è sempre il punto di partenza di qualsiasi progetto, di qualsiasi percorso. Il vero problema, soprattutto nella pubblica amministrazione, è la definizione di questo obiettivo. Definire un obiettivo significa definirlo con precisione. Qua mi piace molto presentare questo acronimo SMART che indica quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un obiettivo. Quindi deve essere specifico, molto chiaro, deve essere misurabile, deve avere la possibilità di essere raggiunto secondo vari step. Deve essere raggiungibile nel senso che devo avere le risorse commisurate all'obiettivo che sto cercando di portare avanti. Deve avere una definizione temporale. Cosa succede se questo non avviene? Beh, mi trovo nella situazione rappresentata da questa bellissima frase di Seneca che dice che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa quale porto vuole approdare. Non definire in maniera chiara un obiettivo mi porta a trovarmi nel mezzo del mare senza sapere dove andare. Il secondo tema su cui mi piace porre l'attenzione è quello dell'utente. L'utente finale per forza rientra nella mission di quella che è la pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato. Se vediamo la norma ISO 9000, ad esempio, proprio testualmente, dice che l'organizzazione deve finalizzare le proprie attività al soddisfacimento del cliente. In questo caso non lo chiamiamo utente. Nel corso abbiamo cercato di ragionare chi è il nostro utente finale. Sul tema dell'utente finale a me piace citare questo proverbio SIUX che dice che prima di giudicare una persona cammina tre lune nelle sue scarpe. Durante il percorso insieme ai partecipanti abbiamo utilizzato questi strumenti che si chiamano Personas che di fatto hanno permesso al dipendente regionale di entrare nelle scarpe del loro utente finale andando a valutare, andando a capire quelli che sono gli obiettivi, quali sono le difficoltà, le frustrazioni che può avere questo utente nell'approcciare i loro servizi. E quindi siamo riusciti in qualche modo a farli uscire dalla prospettiva del dipendente regionale della pubblica amministrazione e di entrare nella prospettiva dell'utente finale. Un altro tema che abbiamo trattato è stato quello dei progetti, quindi di definire quali sono le caratteristiche di un progetto come ha definito, quali sono i ruoli all'interno di un progetto e soprattutto chi è il team di progetto e quali persone è opportuno coinvolgere all'interno di questo gruppo che si pone l'obiettivo di portare avanti un progetto di digitalizzazione. Sempre relativamente ai progetti siamo poi arrivati a definire qual è l'identikit del project manager ossia andare intanto a definire chi è e poi approfondendo il suo ruolo, il tema dell'autorevolezza diciamo in contrapposizione con quello della gerarchia o dell'autorità, le proprie responsabilità e quali sono poi le competenze che dovrebbe avere il project manager. C'è da dire che questa figura solitamente è una figura che si fa fatica a calare nella pubblica amministrazione infatti è stato il tema di moltissime discussioni. Un altro tema che abbiamo trattato è stato quello della comunicazione non per il fatto di chiederci se sia opportuno o non sia opportuno comunicare all'interno di un progetto ma piuttosto per capire come si fa a gestire in maniera consapevole un processo di comunicazione. Abbiamo parlato di processi i processi a mio parere sono un tema centrale l'avete già sentito insomma negli interventi che mi hanno preceduto sono un tema centrale nella pubblica amministrazione qua ci tendo a precisare che la prima associazione assolutamente è quella dei processi giudiziari no, noi abbiamo parlato di un altro tipo di processi i processi della pubblica amministrazione quelli intesi come quell'insieme di attività che dato un certo input ci permettono di ottenere un risultato che poi soddisfi le richieste del nostro utente finale. Perché è importante ragionare per processi? Ne hanno già parlato negli interventi precedenti ma vorrei rincalare la dose proprio perché è un tema estremamente sentito a mio parere la pubblica amministrazione ha questa organizzazione per silos quindi per queste unità organizzative verticali che difficilmente collaborano fra di loro e comunicano fra di loro e quindi ragionare per processi ci permette di evadere da questi silos e di focalizzarci su quelle che sono le esigenze del cittadino ragionare per processi poi permette anche al dipendente di non fermarsi alla logica dell'adempimento ma di impegnarsi per garantire il risultato e quindi il soddisfacimento del cittadino oltre a questi aspetti più di visione relativi ai processi abbiamo trattato i processi anche dal punto di vista più tecnico quindi durante i workshop abbiamo fatto delle attività di mappatura del processo quindi siamo riusciti a rappresentare il processo diciamo anche in maniera grafica per poi passare alla fase di definizione di come sarà il processo dopo la digitalizzazione e quindi questa fase che viene chiamata re-ingegnerizzazione qui vi cito Michael Hammer che in un suo saggio Don't Automate Obliterate di fatto sostiene la teoria secondo cui i veri miglioramenti si hanno quando noi il nostro processo non andiamo solamente a migliorarlo ma quando effettuiamo dei cambi di paradigma lo rinnoviamo in maniera molto più invasiva in questo la tecnologia è un fattore abilitante che ci dà un supporto un altro tema che abbiamo trattato è quello dei dati intesi come un patrimonio pubblico presente nelle pubbliche amministrazioni e su come questi possono essere strutturati, protetti, manutenuti e poi anche valorizzati e collegati ad altre banche dati un breve accenno lo faccio anche sul tema dell'analisi dei rischi che è uno strumento che viene messo a disposizione diciamo di un processo per identificare quali sono i potenziali rischi che potrebbero verificarsi e per andare a identificare delle contromisure che rendano poi questo processo più resiliente agli imprevisti e alle cose che potrebbero andare storte abbiamo parlato come vi dicevo anche in parte di tematiche un po' più tecniche e informatiche quindi di strumenti, di interfacce, di fase di test per poi arrivare diciamo alla fase in fase conclusiva diciamo sul tema degli indicatori gli indicatori come strumento di misurazione poi dell'efficacia e dell'efficienza dei nostri servizi e qua mi piace fare vorrei fare una precisazione quindi l'importanza di misurare i processi e non le persone bene in maniera molto rapida vi ho dato diciamo un assaggio solo di alcune delle tematiche che abbiamo trattato per concludere ecco per lasciarvi uno spunto di riflessione nel momento in cui oggi rientrerete a casa ho voluto diciamo elencare 5 slogan darvi 5 punti il primo è proprio relativo alla metodologia formativa quindi learning by doing and playing aggiungerei è una modalità che permette di prendere i concetti che diciamo dal punto di vista teorico rimarrebbero solamente nel mondo della teoria o nel mondo delle idee e declinarli sul pratico questo permette di dare maggior efficacia all'attività formativa e di rendere diciamo anche tutti gli incontri molto più coinvolgenti e molto più partecipati il secondo slogan che vorrei il secondo punto che vorrei appunto passare è quello della multidisciplinarietà la complessità può essere affrontata solamente con una varietà di discipline e di competenze quindi per fronteggiare progetti complessi bisogna munirsi di una multidisciplinarietà di competenze il terzo punto è sull'utente finale purtroppo, anzi sono abbastanza sicuro nel dire che un servizio che viene sviluppato senza tenere presente quelle che sono le richieste e le esigenze del cliente finale hanno veramente poche possibilità di rivelarsi poi dei servizi efficaci o di successo il quarto slogan è la frase di Michael Hammer che vi ho citato in precedenza e quindi diciamo un invito a rivedere i propri processi anche con coraggio nel tentativo appunto di ricostruirli in maniera più complessiva con un cambiamento più radicale infine il quinto punto è più relativo alla gestione del cambiamento quindi cerchiamo di non sviluppare dei progetti troppo lunghi nel tempo perché potremmo trovarci in una situazione in cui il traguardo non si veda questa situazione, passatemi il termine potrebbe demoralizzare la truppa e in qualche modo mettere a rischio il fatto che poi il progetto venga portato a termine cerchiamo di strutturare questi progetti in fasi ciascuna fase con dei piccoli traguardi dei piccoli obiettivi in questo modo sarà possibile produrre e valorizzare dei successi anche nel breve termine che genereranno fiducia in chi sta portando avanti questo progetto e daranno un forte sostegno a questo percorso di cambiamento grazie, grazie mille allora le domande stanno arrivando più che altro in questo momento ce ne sono un paio che già vi ho girato ma volevo imporre la vostra attenzione su una discussione che è nata nella chat negli ultimi minuti molto interessante si parla di cambiamento ma gli utenti si interrogavano come si può fare cambiamento quando i lavoratori sono anziani di conseguenza c'è stato un dibattito se è questione anagrafica o solamente di entusiasmo perché anche i giovani magari usano la digitizzazione in maniera un po' errata o comunque non c'è questa volontà di cambiamento questo appunto da tutta la discussione molto interessante dove appunto si vinceva anche i partecipanti a questi webinar, a questa formazione continua hanno questo entusiasmo e vorrebbero portarlo anche nelle loro istituzioni tutto questo cambiamento che appunto alle volte è molto difficile da portare nella propria struttura perché magari servono dei funzionari illuminati ha portato anche a un'altra situazione ovvero la domanda che è sorta da questa discussione è come si può educare l'utente finale come appunto quando ha una certa età io vi lascio alle domande che sono nate che vi ho riportato nel vostro box e nel frattempo appunto c'era anche questa discussione prego a voi spero che mi sentiate perché abbiamo qualche problema con la linea che fa le buzze voglio cercare di rispondere a una domanda che era più una considerazione che ha fatto un collega relativa al fatto appunto delle persone anziane quindi a questa sicuramente è un tema di cui quando si progettano i servizi digitali non si può è un tema che non si può ovviamente sottovalutare ora sappiamo che in Italia siamo pieni di servizi digitali pieni perché non è che in 20 anni o 25 anni da quando c'era l'AIPA il CNIPA il DigitPiace tutte le varie poi l'Agid quindi non è che sono temi questi della digitalizzazione dei servizi nuovi si sono sviluppate in questi 25 anni un sacco di piattaforme e di servizi digitali però non sono utilizzati questo ce lo dicono tutte le statistiche o comunque sono scarsamente utilizzati e men che meno dagli anziani naturalmente che sono ancora meno per ovvie ragioni anagrafiche insomma meno propensi all'utilizzo dei servizi digitali ma sapete qual è il problema? così almeno ce lo spiegano gli esperti il problema è che questi servizi li abbiamo progettati non in un'ottica cittadino-centrica cioè si è pensato a progettare la tecnologia ma come spiegavano prima i colleghi in particolare Giacomo senza partire dall'esperienza dell'utente finale dell'utilizzatore senza pensare a rendere semplice ed inclusivo il servizio digitale ma semplicemente traducendo o pensando che fosse sufficiente tradurre una complessità analogica in una complessità digitale quello che Giacomo ci ha detto prima ed è molto importante riflettere su questo non possiamo ingessare una frattura scomposta se io prima non ridisegno il servizio o il procedimento amministrativo se non ridisegno togliendo quei gap quelle inutili complicazioni quelle ridondanze se non elimino quelli inutili circolari note di servizio che spesso su cui spesso noi giuristi perché vi dicevo che quota parte di tutto questo dipende dall'incapacità di noi giuristi o giuridici di affrontare bene il tema del ripensamento dei processi ecco se noi non prendiamo non accettiamo questa modalità di ripensare i servizi come se fossero nativi digitali non produrremo mai servizi digitali inclusivi a misura anche del cittadino anziano quindi vedete un po' è come se mi permetto di fare questo paragone immaginate quando andiamo a studiare una lingua l'inglese ma è indifferente una qualsiasi lingua noi non possiamo dire di conoscerla fin tanto che non pensiamo in quella lingua quindi non è progettare servizi digitali significa pensare con la testa dell'utente finale non è facile perché non siamo abituati ma questo percorso di formazione ci ha insegnato a farlo a noi del centro di competenza per primi perché anche noi abbiamo usufruito di questa meravigliosa esperienza formativa c'è un altro elemento naturalmente di cui tenere conto per progettare servizi digitali inclusivi quello dell'alfabetizzazione informatica di cui anche qui si parla fino alla nausea se l'indice DESI ci dice che siamo qua tra gli ultimi dei paesi europei per livello di competenze digitali di base è evidente che dobbiamo fare qualcosa e progettare percorsi di formazione adatti anche alle persone anziane quindi ai cittadini di tutte le fasce d'età dai giovani a partire dalla scuola agli anziani magari utilizzando facendo delle convenzioni con le università della terza età ma lo stesso vale per le imprese che alle prese, scusate il gioco di parole con l'industria 4.0 si sono trovate in enorme difficoltà anch'esse proprio per le basse competenze digitali e non ultimo come abbiamo cercato di spiegare oggi al personale della pubblica amministrazione che deve ripensare i propri processi e l'erogazione dei propri servizi in ottica per l'appunto cittadino neocentrica vedo che c'è qualcuno che dice sottolinea che quando si lavora in prima linea è ben diverso l'approccio con l'utente io vengo da un comune ho lavorato per vent'anni in un comune prima di venire in regione quindi so che cosa vuol dire la prima linea so cosa significa avere l'utente allo sportello con tutte le sue difficoltà quindi comprendo e sono vicina a tutte le vostre manifestazioni anche diciamo così l'esposizione di un disagio che c'è profondo in tutte le pubbliche amministrazioni anche quelle più piccole o non così piccole però quello che a noi interessa farvi capire è che il cambiamento si può stimolare bisogna farlo con metodo con strumenti e con persone capaci poi di rendere entusiaste le persone dentro la pubblica amministrazione far capire loro che il ripensamento dei processi è la chiave di lettura verso una pubblica amministrazione più inclusiva più etica più solidale e che comunque lavora anche meglio perché il digitale quando è fatto bene ha anche non la pretesa ma proprio la bontà di far lavorare meglio di far lavorare i funzionari meglio cioè di erogare bene i servizi ma facendo meno fatica anche questa è la sfida vediamo Giacomo allora vediamo le altre domande allora vedo una una domanda sull'aspetto degli degli indicatori quindi su come si faccia a misurare i processi a prescindere dalle persone allora qua secondo me il ragionamento fondamentale va fatto sul motivo per cui viene fatta una misurazione misurare i processi significa condividere poi con le persone che lavorano all'interno del processo che quello che noi stiamo andando a misurare non è la loro performance singolare ma è la performance di tutto il processo e quindi dell'efficacia dell'efficienza del processo nei confronti poi del cittadino è logico che poi all'interno della performance del processo è fondamentale che ci sia sotto una performance di squadra delle persone che vanno sotto ma quello che noi vogliamo diciamo vorremmo un po' sottolineare è che andare a misurare poi la singola persona fa sì che anche la rilevazione poi del dato sia come dire un po' troppo indirizzata su poi quello che è il motivo della misurazione quindi anche l'attendibilità del dato che viene fatto diciamo misurando una singola persona non sempre è così veritiero o comunque va a darmi delle indicazioni utili su quella che è la finalità della mia misurazione invece condividere con tutta la squadra che l'obiettivo è quello di andare a misurare il processo ma con un'ottica non di punire i colpevoli ma di andare a identificare se ci sono degli aspetti da migliorare in un'ottica di processo e quindi di organizzazione allora in questo modo a nostro parere l'indicatore sarà sicuramente utile e anche diciamo veritiero completo completo questa domanda che è composta in effetti da tre punti relativamente alla valutazione alla formazione del top management delle pubbliche amministrazioni in effetti sì i percorsi nel percorso che abbiamo sviluppato per la regione Friuli-Venezia-Giulia i destinatari sono stati di due tipi una parte quelli che abbiamo chiamato i project manager ossia le persone che sviluppano e che sono responsabili dei servizi e quindi un po' più operative no? e dall'altra la formazione dei direttori centrali o di servizio per cui il percorso ovviamente è stato diverso perché come dicevo prima come ho detto l'importante è capire qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere e quali sono le finalità poi che la formazione può portare avanti per i dirigenti significa essenzialmente fare in modo che si riesca a capire qual è l'azione e le necessità che poi i project manager ovvero quelli che sono responsabili di reingegnerizzare i servizi hanno necessità per cui sicuramente è previsto anche e abbiamo sviluppato anche un percorso per i top management top manager della regione per ogni destinatario la formazione sicuramente deve essere diversa un altro elemento che volevo riprendere che leggo appunto nelle chat è il tema relativo al dipendente anziano alla resistenza del cambiamento e alla difficoltà di attivare questo cambiamento come dicevo nella presentazione sicuramente questa è la sfida più importante e più difficile però ecco dobbiamo adottare la politica dei piccoli passi innanzitutto non possiamo cambiare tutto e subito e soprattutto tutti e subito però come è stato fatto all'interno della regione Chilli Venezia Giulia andare a scovare o a individuare identificare quelli che sono i colleghi più aperti e dopodiché agire a macchia di leopardo perché è proprio con l'entusiasmo di questi nel momento in cui si riesce ad attivarlo che porterà a coinvolgere anche gli altri anche quelli più restivi e il secondo elemento è il fatto che probabilmente una resistenza è legata dal fatto che la digitalizzazione spesso viene identificata come informatizzazione e quindi soprattutto per chi non è digitale e chi non è digitale come me è qualcosa che spaventa di cui non si è mai conosciuto si ha paura nonostante che tutti anche il settantenne e ottantenne utilizzi oggi lo smartphone ed è per questo motivo che quindi l'approccio deve essere l'approccio iniziale deve essere diverso l'importante appunto è fare in modo che queste persone anche le più restie comincino a entrare nelle scarpe dell'utente finale quindi è questa la porta all'ingresso non tanto andiamo a capire come si può fare con l'informatica un servizio ma a quanto andiamo a capire se il servizio che stiamo erogando è effettivamente quello che il nostro cittadino vuole ma soprattutto conosciamo il cittadino ovvero il nostro collega a cui noi stiamo erogando un servizio questa è forse la strada che spaventa di meno sicuramente di altri mi sembra che non ci siano altri elementi salvo il sottolineare nuovamente che il processo di digitalizzazione è un processo di squadra quindi dovete c'è bisogno effettivamente riunirsi e soprattutto rendersi conto che per ripensare i servizi è importante conoscere l'organizzazione quindi non solo il proprio ufficio la propria funzione il proprio settore ma andare a curiosare anche e a conoscere i colleghi grazie a parte i complimenti che stanno arrivando e alcune altre riflessioni su appunto il ruolo centrale dell'innovazione e nelle difficoltà che si possono incontrare nello scardinare l'idea che la digitalizzazione sia materia di informatici sempre appunto commentavano le vostre risposte proprio all'inizio del webinar è arrivata la domanda che metteva in evidenza che avete istituito un unico canale digitale per l'accesso di tutte le pratiche che transitano al protocollo e si metteva in evidenza che se può risultare semplice convincere un imprenditore a trasmettere una pratica telematica come vi comportate ad esempio nei confronti di un utente anziano dei servizi sociali che chiede un rimborso questa era la prima domanda quando avete proprio iniziato l'esposizione per il resto ancora non arrivano altre domande se non i complimenti sì Paola speravo di avere speravo di avere risposto a quella domanda nel momento in cui ho cercato di chiarire che bisogna progettare servizi digitali inclusivi è proprio lì la chiave di volta quindi se noi non riusciamo a fare delle cose facili per tutti il che può significare anche ripensare alle circolari ripensare le norme riscrivere un regolamento fare un'operazione profonda all'interno di un'organizzazione che va in qualche modo a scardinarla ed è per questo che come ricordavano i colleghi serve un lavoro di squadra e serve come vi ho detto all'inizio un forte commitment se non c'è anche il commitment politico difficilmente un processo di digitalizzazione potrà avere successo perché ognuno continuerà ad andare per la sua strada il meccanismo dei silos non lo scardineremo mai e quindi men che meno riusciremo a progettare servizi nativi digitali di facile approccio anche per le persone che hanno un disagio digitale più marcato come può essere o anche no insomma la persona anziana ecco servizi inclusivi questa è la parola chiave aggiungo aggiungo solo per per completezza perché ricordo che qualcuno chiedeva i risultati uno dei risultati operativi è proprio per esempio la re-ingegnerizzazione di un servizio che va a favore delle famiglie che hanno i bambini all'asilo nido ora credo che proprio questo questo ambito di anche una risposta alla persona che ha fatto l'osservazione del cittadino anziano in questo processo di re-ingegnerizzazione all'interno del gruppo di lavoro sono state chiamati i rappresentanti delle famiglie gli stessi utenti finali di conseguenza anche nel caso dei servizi sociali il servizio dovrà essere ripensato cercando di sentire queste persone anziane e capire quali sono le difficoltà che possono incontrare grazie mille allora prima di salutarvi una comunicazione di servizio ricordo che domani ci sarà sempre le 10 il webinar lo sportello digitale del portale nazionale a disposizione dei comuni italiani le iscrizioni sono aperte fino a domani mattina alle ore 8 ringrazio tutti voi per aver partecipato complimenti ai nostri relatori mi stanno scrivendo in chat che è uno dei webinar più interessanti che si sono svolti dunque complimenti ancora a tutti lascio la parola ai relatori per i saluti finali e vi ringrazio a tutti per aver partecipato un grazie in team un grazie corale che c'è da te...